Allora siamo ancora qua, abbiamo preso al volo una spettatrice del Festival di Villarupo, chiediamo un parere sul cinema italiano, cosa ci dice una giovane spettatrice qua da Villarupo e il cinema italiano? Il cinema italiano, non lo so, è un buon cinema, è un buon film, è realista e si fa rire, si parla di cose grave, tutto in facendo rire. L'ultimo film italiano visto? Benvenuti al Sud. Com'era? Ça va, bene, ma è troppo come il film French. Invece mi hanno detto che questo bellissimo film italiano pare che sia qua, Amore liquido, lei l'ha visto? Un vecchio film, divorza l'italiano, nero e bianco. No, no, è un film bianco e nero, divorzato all'italiano. Ah, divorzato? Sì. Un film bellissimo. Sì. Allora, salutiamo la nostra giovane amica, gli raccomandiamo di andare a vedere Amore liquido al Festival di Villarupo. Un magnifico film. No, non lo so, è un film bellissimo di un giovane regista con un bravissimo attore, Stefano Fregni, che è in bagno, però mi raccomando, bisogna vederlo. Ok? Allora andiamo a vedere dov'è, attenzione, scuppo, scuppo.